amici amici del corner sandoriano bentornati questa vittoria della Sampdoria importantissima meritata cercata e deve essere il punto di partenza così va concepito secondo me non un punto di arrivo bisogna dimenticare e pare sia stato fatto il gennaio terribile senza punti e ripartire da qui per costruirsi una salvezza tutt'altro che scontata che diciamo oggi la giornata era iniziata sotto pessimi presagi perché la vittoria del Cagliari a Bergamo aveva iniziato a restituire sentori di insomma indizi di un'annata che poteva iniziare a sembrare decisamente storta al di là delle semplici prestazioni dei ragazzi con la maglia brucerchiata e invece questo Sampdoria Sassuolo per il momento ci dice che non è così perché la Sampdoria oggi ha giocato ha messo la prestazione ha fatto una gara e ha messo contenuti seri nella partita contro i nero verdi di Dionisi contenuti seri è un copyright di Giampaolo un'espressione che l'allenatore della Sampdoria spesso usa per l'aveva detto anche dopo dopo la gara di Spezia per definire insomma quello che vede sul campo da parte della della sua squadra. Vittoria che ci dice un po' di cose prima di tutto che non sono risolti tutti i problemi perché e torno al discorso dei segnali oggi è andato tutto bene nel senso che sì la Sampdoria ha avuto il merito di mettere subito in discesa la gara e questo è stato fondamentale per poter affrontare con serenità la partita contro una squadra che insomma è migliore lo dice la classifica lo dice il talento probabilmente nella squadra il talento in campo era un po' più sbilanciato rispetto alla squadra in favore della squadra di Dionisi che personalmente mi preoccupava soprattutto per la freschezza e la spensieratezza visto che non ha particolari pressioni di classifica di fare risultato arrivava Marassi invece contro la Samp che aveva bisogno disperato di punti tra l'altro un po' di cose un po' di dati sa solo che abbiamo tenuto a zero era successo anche all'andata e non è una cosa scontata perché compresa comprese le due gare contro la Samp in ventitré partite di campionato i neroverdi emiliani solo in altre due occasioni erano rimasti senza segnare contro il Torino di Juric e contro il Bologna di Mijailovic la Samp che segna più di tre gol non succedeva dal gennaio duemila e venti nella gara contro il Brescia del dodici gennaio se non sbaglio duemila e venti era finita cinque a uno non esistevano ancora le mascherine per intenderci segnarono Linetti doppietta di Quagliarella Torregrossa giocava nel Brescia insomma una vita fa più di due anni fa e alla fine comunque che partita è stata la prima notizia buona è che Sensi ha giocato e ha subito fatto capire che cosa può dare a questa squadra e il primo indizio che mi viene la prima qualità la prima funzione che può avere Sensi Stefano Sensi nella Sampdoria di Giampaolo e far risalire la squadra dalla difesa far uscire il pallone farci guadagnare metri solitamente utilizzando luoghi comuni spesso abusati nel calcio si dice che questo lavoro qua te lo fa la prima punta col fisico che mette giù i palloni sporchi le palle sparate a casaccio dalla difesa esiste quella dinamica lì la Sampdoria non ha in organico questo tipo di giocatore ma Sensi ha permesso e l'ha fatto soprattutto nella primissima parte della gara in cui era molto fresco molto attivo molto entusiasta e voglioso di entrare nei meccanismi di questa squadra ha permesso alla Sampdoria di uscire da difesa e centrocampo facendosi trovare sempre smarcato col posizionamento giusto con la postura giusta del corpo per poi anche rifinire in modo molto ispirato ha mandato in porta caputo in un paio di occasioni quindi bene Sensi che ha segnato il gol del 2 a 0 si stava anche guadagnando il rigore sempre nel primo tempo insomma Sampdoria che ha prodotto e arrivata spesso nel primo tempo grazie anche alla prestazione di Sensi abbiamo visto un caputo molto più coinvolto si è andato via via spegnendo lungo la gara anche perché la Sampdoria si è lentamente abbassata nel corso dei 90 minuti ma insomma caputo che porta a casa il sesto gol della sua stagione che inizia ad aggiustarsi anche dal punto di vista numerico e di questo passo va verso una doppia cifra e quindi si riabilita a netto di qualche prestazione un po' deludente anche qualche occasione un po' sfortunata le occasioni spesso le ha avute oggi ne ha avute parecchie è stato molto sollecitato quindi anche questa è un'ottima nota è una pessima nota invece una pessima notizia eh l'uscita e le modalità dell'uscita di Gabbiadini pare ci sia un interessamento del ginocchio e suonano a questo punto un po' sinistre e premonitrici le parole di Giampaolo nel pre che aveva definito positivamente il mercato in relazione anche alle possibilità economiche che in questo momento ha la Sampdoria non è andato via nessun pezzo grosso e lui avrebbe però voluto un attaccante in più proprio perché doveva cautelarsi in caso di eventuali mancanze a livello fisico tac puntualmente successa questa cosa e per il momento diciamo esordio da non esattamente memorabile per Supriaga che insomma in modo anche fisiologico è apparso corpo estraneo di questa Sampdoria ci sarà tempo per inserirlo in realtà non tantissimo perché a questo punto ci auguriamo un rapido ritorno di Fabio Quagliarella e Supriaga dovrà accelerare il suo progetto il suo processo di ambientamento nella squadra non tutto oro in questa Sampdoria che oggi però ha luccicato contro il Sassuolo nel senso che è andata bene il Sassuolo ha premuto tantissimo ha tirato 25 volte verso la porta Falcone ha dovuto fare nove parate questa è una grande grande insomma una nota molto molto positiva per la Samp che ancora non ha rimesso Audero in porta e a questo punto chissà se lo rivedremo perché la notizia ufficiale era che non fosse al meglio l'ex portiere del Venezia però Falcone così ha dato grandi risposte appunto nove parate molto reattivo anche con i piedi credono abbia fatte tre alla garella si diceva una volta comunque il Sassuolo che ha spinto molto però diciamo che allora quella di oggi non sembrava tanto una Samp di Giampaolo classica lo era sembrato di più alla Spezia perché comunque lo Spezia aveva concesso alla Samp aveva lasciato il possesso palla cosa che invece il Sassuolo non fa però la Sampdoria oggi è stata vincente e fortunata nella scelta di accettare la partita proposta dal Sassuolo ma non difendersi aspettare il Sassuolo bassa per togliergli profondità ma provare ad andarlo ad aggredire in questo modo ha recuperato palloni nelle zone alte del campo e si è riuscita a costruire un po' di di occasione alla fine ha tirato undici volte la squadra di Giampaolo ovviamente la partita si è indirizzata per un certo tipo di gestione perché insomma si è arrivati sul 2 a 0 dentro i primi sette minuti quindi ha avuto anche una sua logica non costruire tanto non tenere tanto il pallone non attaccare tanto non prestare troppo il fianco al Sassuolo ma cercare di comunque aggredirlo non farlo respirare lì c'è stata la pecca principale secondo me perché il Sassuolo tante volte è riuscito a bucare centralmente saltare la prima linea di pressione Raspadori ha creato più di qualche problema facendosi trovare alle spalle di Rincon che comunque ha fatto una signora partita con regia essenziale poco palleggio ma tanto lavoro sporco davanti alla difesa difesa che ovviamente ha tratto grande giovamento dal ritorno di Omar Colli ha tratto grandissimo giovamento Alex Ferrari un dato che possiamo trarre che già avevamo intuito Alex Ferrari fatichiamo a pensarlo come un titolare di questa Sampdoria perché a livello fisico di rendimento non ha mai dato grande continuità ha alternato spesso prestazioni confortanti ad altre meno valide oggi però ha dimostrato che con una guida sicura al fianco può dare il meglio di sé oggi ha totalmente annullato Scamacca questa è insomma è una gran cosa una cosa non banale da segnalare così come da segnalare il fatto che per la seconda partita consecutiva contro il Sassuolo la Sampdoria non prende gol da Berardi prestazione solida di Murro a sinistra avventurosa quella di Bartosz Berecensky fresco di rinnovo del contratto questa è un'altra nota lieta da segnalare è entrato poi bene anche Augello nel finale insieme a Vieira con lì Giampaolo che dopo il terzo gol ha deciso di passare alla difesa a tre o a cinque quindi insomma probabilmente probabilmente allora una notizia che mi piace sottolineare è il fatto che forse le esperienze che Giampaolo ha fatto dopo essere andato via dalla Sampdoria ci restituiscono anche un Giampaolo forse meno integralista forse più malleabile sicuramente la cosa da l'evidenza da segnalare che noi tutti ma io per primo mi ci metto immaginiamo Giampaolo vivere in un suo pianeta a parte in cui esiste solo il quattro tre uno due con il gioco palleggiato e il possesso palla infinito e invece Marco Giampaolo vive sul pianeta terra ha detto lui stesso di aver guardato tantissimo calcio sa in che luogo è arrivato in che contesto è arrivato conosce questa maglia ma sa e l'abbiamo già detto che non è la stessa situazione in cui era arrivato nel luglio del 2016 e quindi sta provando a trovare un compromesso per esempio noi tutti facevamo fatica a immaginarci Torsby in questa squadra invece invece oggi Torsby è arrivato è tornato ai livelli a cui ci aveva abituato anche forse potendosi giovare del fatto di non dover andare a saltare ogni minuto sul rinvio del portiere un'altra cosa ecco che per esempio oggi la Sampdoria ha fatto è stata non palleggiare sempre ma neanche come recentemente avevamo visto sotto Roberto Daversa cercare ostinatamente di saltare il centrocampo e andare a lottare sulle seconde palle ha alternato le due cose infatti il momento che più mi rimane di questa partita è stato se vi ricorderete ed è successo al quarto del secondo tempo quindi eravamo ancora sul due a zero partita totalmente aperta Sassuolo che stava producendo il massimo sforzo per provare a a reindirizzare a raddrizzarla c'è stato un una costruzione dal basso che ogni tanto la Sampdoria ha provato a proporre partita da Falcone che pressato stava tenendo palla dentro la sua area piccola dalle parti della linea di porta passaggio per Collei tra l'altro preso un po' in controtempo e lì brivido immagino in tutto lo stadio sicuramente eh tra i cuori con insomma tra i cuori brucerchiati Collei è riuscito ad allungare la gamba a servire Murru che da lì col col Sassuolo che era molto alto a pressare ha trovato verticalità con l'azione della Sam che poi è passata da Caputo rifinita da Sensi perché Andreva che è arrivato in corsa e ha tirato a lato però lì la Sampdoria è andata verticale e ha pagato questa scelta in quell'occasione di non impigrirsi nonostante il pressing alto della squadra di Dionisi sulla palla lunga l'alternanza delle scelte fondamentale in modo da essere anche un po' imprevedibili e far insomma togliere certezze alla strategia la condotta di gara degli avversari oggi il Sassuolo quindi quattro a zero ripartenza blucerchiata sperando che Gabbiadini non sia grave sperando che Supriaga si eh integri eh in fretta in questa squadra sperando che torni eh Fabio Quagliarella arriva il Mila lo sapete si va a San Siro domenica prossima quindi con un Milan galvanizzato evidentemente dalla vittoria nel derby grazie per essere arrivati fin qui e aspetto i vostri commenti qui sotto Grazie mille a tutti i nostri Grazie mille a tutti i nostri